In collaborazione con Come sempre? Buonasera amici sportivi ben ritrovati Appuntamento di metà settimana con Zona Mista News Sembra esserci una maledizione sulla Salernitana Sulla difesa Granata, sui centrali difensivi della Salernitana Non c'è pace per Alessandro Bernardini Che aveva scontato e ha scontato il turno di squalifica Era seriamente candidato a trovare un posto A riprendersi il posto nell'11 base Contro il Pro Vercellina Delicatissima trasferta di sabato prossimo Ebbene Bernardini sono due giorni che non si allena Stamattina non si è proprio allenato Un problema al flessore della gamba destra Sospetto edema ieri aveva accusato un leggero risentimento Era stato sfilato via da Menichini proprio prima del rompete le righe Oggi quello di ieri a scopo precauzionale Oggi questa precauzione si è trasformata in un pericolo In un warning perché in tarda serata Bernardini effettuerà una risonanza magnetica Ma le chance, le ipotesi che possa esserci per la trasferta di Vercelli Sono scarse anche se la serenitana trasmette una sorta di moderato ottimismo Come se non bastasse anche se non si vede da tempo Anche Raffaele Schiavi oggi è stato costretto al forfè per un problema al tendine Schiavi fuori da oltre 5 mesi per la frattura del Perone E insomma Menichini con gli uomini contati in difesa Costretto a fare a meno di Moro a centrocampo Costretto a cambiare ancora atteggiamento tattico Perché ancora una volta, nonostante le assenze Complici forse anche le assenze e l'imposizione di tenere Ronaldo Che nel 4-4-2 sarebbe come il cavolo a merenda Già la serenitana giocherà con il 4-3-1-2 Un trequartista alle spalle del tandem offensivo Parleremo di questo insieme ad un esperto di calcio Vecchia conoscenza della Lazio Oggi allenatore ma soprattutto amico di zona mista Buonasera Raffaele Sergio Buonasera, buonasera a tutti Raffaele, un preambolo che lascia un po' da mare in bocca È un cimitero Insomma, sembra un bollettino di guerra Però anche questa non è una novità La novità è che la serenitana è riuscita a vincere il suo primo scontro diretto Sabato scorso Adesso è chiamata ad una conferma Su un campo, quello della Provercelli Che alterna prestazioni convincenti ad autentici aurachiri Ma la cosa importante è aver fatto il risultato pieno sabato scorso Contro una squadra che comunque sia È stata anche un po' risucchiata dentro questa classifica Quindi credo che è un passo importante Anche sotto l'aspetto della fiducia Sotto l'aspetto tecnico E soprattutto questo permette comunque anche di lavorare meglio Dispiace per questi infortuni che comunque in questo momento sono importanti e basilari Perché il calendario un po' della serenitana Sono un pochino quasi tutti scontri diretti Quindi bisogna stringere i denti E cercare di preparare bene questa partita Perché comunque sia è un'altra finale Partiamo dalle certezze Le certezze sono la coppia goal Che è la terza migliore coppia goal del campionato Tra l'altro in tanti messaggi che stanno arrivando Nel nostro sito internet TvoggiSarano.it Al link Zona Missa News Ti riconoscono in quanto tuo conterraneo Ma l'hai detto da questa stessa tribuna In tempi non sospetti Ma l'abbiamo detto Di coda Cioè a zero gol in classifica Esatto Sono felice ma non avevo dubbi Io credo che era solo un problema Che veniva da un infortunio E quando un giocatore viene da un infortunio Comunque ha bisogno di un po' di tempo Credo che l'importante è che in un giocatore ci siano le qualità Le qualità sono fondamentali e importanti E credo che adesso possa dare questo ragazzo Oltre a essere un ragazzo molto umile Devo dire che può dare secondo me Un grosso aiuto alla Salernitana in questo momento Salernitana che con Menichini Cambia spesso atteggiamento tattico Non so se poi sono sempre risultati Che dicono se è giusto o è sbagliato C'è un dato di fatto Con il 4-4-2 questa Salernitana Ha dato contezza di essere più quadrata Sono arrivati anche finalmente tre punti contro il Latina Intanto sabato contro la Provercelli Ti viene meno Moro Non hai Ronaldo che può fare il 4-4-2 Sei costretto a cambiare ancora 4-3-1-2 con parecchi giocatori adattati Che ne pensi? Io penso che Menichini l'ho conosciuto a Napoli Ed era il secondo di Mazzone Quindi Mazzone di quello che si voglia dire È un avatore molto innovativo Quindi la cosa importante è la bravura di Menichini In questo momento che non è fossilizzato Su un sistema di gioco Anche perché poi il sistema di gioco Tu lo devi adeguare e adattare ai giocatori Quindi credo che chi meglio di lui Che conosce i giocatori Vedendoli tutti i giorni È naturale che la cosa brutta che tu vedi È che siamo partiti subito male Con la trasmissione Nel senso che abbiamo detto Che è un'ecaotomba in questo momento Quindi è normale che lui Con la sua esperienza Con il suo modo di fare Sta cercando di dare equilibrio In base alle caratteristiche dei giocatori che ha Quindi secondo me È il fatto stesso che non si fossilizzi Su un solo sistema di gioco Secondo me è fondamentale e importante Ma il fatto che questo può creare degli alibi O anche delle confusioni all'interno del gruppo Nel provare un modo Ma io penso che i giocatori Devono pensare a correre e a fare i giocatori Quindi secondo me non ci sono In questo momento Le domande qui non se le devono porre Bisogna cercare soltanto di adeguarsi Cercare di seguire l'allenatore Perché qui al minimo passo falso Si rischiare processione È inutile girarci intorno Quindi secondo me Porsi delle domande Oppure crearsi degli alibi In partenza secondo me è sbagliato In questo momento bisogna mettersi a disposizione Se l'allenatore dice che si deve giocare Tutti e undici dietro Secondo me devono giocare tutti e undici in porta Quindi io credo più in questa filosofia Che nell'altra Nella filosofia dei moduli La filosofia dei moduli è relativa Perché se non sposiamo prima il progetto Dell'allenatore che dice Che vuole dei sacrifici in questo momento Bisogna sposare questo tipo di filosofia Nel momento in cui si trova delle scuse Secondo me non si va da nessuna parte Allora cominciamo ad evadere un po' di post Delfino Granata Al nostro sito internet Tipo oggi saleno.it All'Inczona Missanius Ci scrive Per Raffaele Sergio Si parla tanto di questa salenitana Che i gol bene o male li fa sempre Ma li subisce in maniera altrettanto puntuale Eppure Menichini e Scuola Mazzone Menichini 22 gol subiti Con la peggiore difesa Ma divise con Torrente 22 gol subiti in 11 partite Credo 10 partite Ma il problema della difesa È che comunque sia È sempre costretto a cambiare Quindi dare un giudizio Secondo me Relativo Io credo che un allenatore Comunque sia Deve avere il tempo materiale E anche i giocatori a disposizione Io penso che Comunque sia Come tu hai detto inizialmente È stato sempre costretto a cambiare Quindi quando un allenatore Cambia in continuazione Non è semplice trovare Adesso sembrava che aveva risolto un problema Ma ce ne sanno due da risolvere Quindi non è semplice questo Quindi in questo momento bisogna Fare di necessità virtù Non porsi tanti alibi E cercare di guardare positivamente A questa trasferta Che comunque non ci dimentichiamo Che è una trasferta molto molto difficile Molto delicata Raffaele prima parlavi del fatto Di non farsi domande Da uomo di campo Da mister Da allenatore È anche giusto Però il mister In questo caso Menichini Se le sta facendo delle domande Se le sta ponendo Perché? Perché sapendo che Non ha a disposizione Moro Squalificato oltre che infortunato Ronaldo Nel 4-4-2 C'entra poco Allora ha bisogno di mettergli Due esterni Due mezzale Oggi ha provato Economidis Mezzala destra Zito Mezzala sinistra Ronaldo E Oger Addirittura Trequartista È un Praticamente Un rombo È un rombo Mascherato Più che altro Più che altro Sono abbastanza d'accordo Anche perché Ronaldo è un giocatore Che nel 4-4-2 Perde tanto È giusto che Secondo me Menichini Gli mette due cursori Secondo me Bravi sia tecnicamente Che fisicamente Però secondo me Quello che conta È cercare di Ognuno Almeno Almeno io dico sempre Ai miei giocatori Fare una corsa in più E una chiacchiera in meno Perché secondo me Il vero segreto Poi alla lunga È qui In questo momento Secondo me Porsi le domande Molto molto pericolose Devo dire la verità Questo è un aspetto Che mi sta confortando La Salernitana Con la nuova gestione Atletica Sta dimostrando Di essere una delle squadre Più in gamba Del momento Nico ti scrive Ciao Eugenio Ho sentito un'ipotesi Di informazione 4-3-1-2 Con Nalini Mezzala Ti risulta Per me è troppo azzardato Che ne pensi Rischiamo di doverlo sostituire Dopo 20 minuti Come contro il Bari Meglio inserirlo Nell'ultimo quarto d'ora Quando gli altri calano Ci hai preso in pieno Nico Perché Nalini È stato provato Ieri da Menichini Mezzala Che era un po' Il ruolo che faceva Nella Vecomp Interregionale Il giocatore Non ha la gamba È fermo da un anno Si è bloccato Proprio quando è partito titolare Certamente Non partirà a titolare Non partirà a Mezzala E certamente Ecco perché oggi È stato provato Oikonomidis Mezzala Nalini Lo devi gestire Raffaele Ma quando si viene Da un infortuno È lo stesso discorso Che facevo prima Con Coda È normale che All'inizio dell'anno Chi l'ha visto Diceva Abbiamo preso un brocco Sostanzialmente Io posso assicurare Che anche io Ho subito un infortuno Importante E il recupero Non è stato semplice Quindi credo che Va gestito Questo tipo di giocatore Anche perché Il giocatore stesso Pensa di stare bene Ma il problema È che quando va in campo Gli altri vanno Il doppio di te Quindi Credo che In questo L'esperienza di Menichini Nel gestire Questa situazione Secondo me È la giusta persona Gianfranco 60 Prima del servizio La difesa E oggi è alto Per sfruttare Rapidità Inserimento E tiro Ai lati Zito E gatto Addirittura Un vostro Parere Per cortesia Con i migliori saluti E la specie Di vincere A Vercelli Gianfranco Gianfranco Dice sostanzialmente E mi accodo Anche a quello Che ti chiede Raffaele Così evadiamo Ancora un po' Di messaggi Volevo fare Il terdice Buonasera Eugenio Volevo fare Una domanda Al tuo ospite Da ex terzini I quattro terzini Che ha la serenitana Ma su qualcuno Mi sono già espresso Quindi credo che Però Credo che Possono stare Nella rosa Io credo che La serenitana Secondo me Ha fatto delle valutazioni Eccessive Su certi giocatori E su altre Secondo me Ha sbagliato Credo che Adesso è inutile Se dici Possono stare Nella rosa Significa che La serenitana Non ha terzini titolari Qualcuno Secondo me Non può stare In queste Non lo vedo Adatto A queste categorie Quindi Mi sono espresso Anche in passato Tu lo sai Su qualche giocatore Però adesso È inutile Rivangare Perché c'è poco da fare Pensare Secondo me Adesso Andare a cercare E trovare Queste 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 accuse Non serve a niente Secondo me Bisogna lavorare Al massimo Con il materiale Che c'è a disposizione E cercare Di ricavare al massimo E soprattutto Fare tesoro Degli errori Che si sono fatti Raffaele Ricavare al massimo Ti chiedeva Gianfranco Pestrini Invece che Ronaldo In vertice basso Secondo te Io penso Che deve giocare Chi sta bene Ronaldo Ha dimostrato Che in quel ruolo Soprattutto Con la copertura Di due mezzale Secondo me È un giocatore Molto molto importante Io credo Che fa girare bene La palla È veloce Secondo me È un giocatore Che Se sta bene Per me Deve giocare Perché ha grande qualità Io credo Che deve trovare Solo continuità Perché ha giocato poco Però nel momento in cui Credo che nel mercato Di gennaio La Salernitana Abbia fatto Un ottimo acquisto Cioè Ronaldo Vediamo il servizio Che abbiamo preparato Per di nuovo in studio Non c'è pace Per la Salernitana Non c'è tregua Per il pacchetto Arretrato Granata Alessandro Bernardini È in forte dubbio Per la trasferta Di sabato prossimo Al Piola di Vercelli Il possente Difensore centrale Lamenta un problema Al flessore della gamba destra Ed oggi È rimasto a guardare I compagni Da bordo campo Il sospetto È che si tratti Di un edema L'ex Livorno Farà una risonanza Magnetica Per capire L'entità Dell'infortunio Il rischio Che possa saltare La trasferta In terra Savoia È concreto Anche se Dallo staffa medico Si respira Un clima Di modesto Ottimismo Già ieri però Bernardini Aveva avvertito Un leggero fastidio Ed il tecnico Ha preferito Sfilarlo Dall'allenamento Poco prima Del rompete le righe Oggi Al volpe La sorpresa Amara Sgradita Il difensore È rimasto a guardare I compagni Da bordo campo In caso di fumata nera Si tratterebbe Di un'assenza Pesantissima Per Menichini Il tecnico Aveva già dovuto Fare a meno Del suo migliore Alfiere Sabato scorso Contro il latina Causa squalifica Scontato il turno Di stop Arriva La tegola Dell'infortunio Una iattura Non c'è che dire Intanto Menico Continua le grandi Manovre Per rodare Il rombo A centrocampo Oggi però Ha cambiato Gli interpreti A partire Dalla difesa In cui Al fianco Di Emperer Si sono alternati Tuia e Bagadour Per sostituire L'infortunato Bernardini Sulle fasce Invece Colombo È certo Di una maglia Complice Il forfè Di Ceccarelli Mentre Franco Ha di nuovo Scalzato Rossi Sull'outmancino In mediana Le maggiori novità Walzer Di Pedine Nel centrocampo Con Oikonomidis Dirottato Mezzala A destra Al posto Dinalini Che non ha E 90 minuti Nelle gambe E spronato A gran voce Dal tecnico E dal suo vice Bonatti Ronaldo Avrà il posto In cabina di regia È stato provato Anche Pestrine In quella posizione Ma soltanto Come alternativa Mentre Zito Agirà sul fronte Sinistro Confermato Il motorino Oger Nelle inedite Vesti di rifinitore O trequartista Che dir si voglia Alle spalle Dell'inamovibile Coppia centrale Offensiva Composta Da Coda Donnarumma La Salernitana Può vantare La terza migliore Coppia gol Tutta la serie Cadetta 23 reti All'attivo E Menichini Non vuole certo Privarsene La certezza È che la Salernitana Vercelli Cambia ancora pelle Mette in freezer Il 4-4-2 Scongelando Un nuovo Spartito tattico Che Menico Quest'anno Non ha mai applicato Il 4-3-1-2 Tanto per intenderci L'alternativa Sarebbe soltanto Il tridente In tal caso Gatto Prenderebbe Il posto Di Oikonomidis Con un ritorno Alle origini Allora Noi dobbiamo andare In pubblicità Prima però Un ultimo messaggio E una considerazione Eugenia Vallone Scrive Buonasera Visto che dobbiamo Giocare con il Rombo Che ne pensate Di Oger Vertice basso E Oikonomidis Vertice alto Oppure un 4-4-2 Classico Con Oger E Tuia A centrocampo Tuia a centrocampo Mi sembra un po' Azzardato Allora Su Oger Vertice basso Potrebbe essere Una soluzione Però Il segreto Insomma L'alchimia tattica Di Menichini Menichini Vuole Oger Vertice alto Non tanto perché Non ha il piede Ducato Del rifinitore Ma vuole andare A pressare A dare fastidio Sul portatore Di palla Avversario Della Provercelli Che gioca Con un 3-5-2 Quindi vuole andare A dare fastidio Alla Mente Della formazione Di Foscarino Prima della pubblicità Rafferino Non so se siete d'accordo Su questo E ti chiedo anche In un 4-3-1-2 Disegnato così Da Menichini Gatto Non può giocare? Ma Allora La prima domanda Praticamente Oger Secondo me Quel ruolo Non lo può fare Secondo me Può fare Sia la mezzala Sia Giocare dietro le punte A dare fastidio Tu dici Non può fare Il play basso Quindi Il play basso Non lo può fare Secondo Quello che vedo io Poi ognuno È libero Secondo me Ha le caratteristiche C'è a corsa C'è un discreto piede Ma secondo me Nel ruolo In cui lo vorrebbe Utilizzare Menichini Secondo me Può dare Oltre fastidio E dare una mano Al centro campo Secondo me Anche negli inserimenti Può dare Può essere una spina Molto molto Insidiosa Gatto Gatto è un giocatore Secondo me D'attacco Può Attacca bene Gli spazi È un giocatore Secondo me Che nell'ultima mezz'ora Può essere Devastante Io credo Credo che Credo che In questo Menichini Comunque Davanti C'è da dire Che il reparto D'attacco Comunque in questo momento È abbastanza affidabile Quindi credo che La barulola di Menichini Deve essere Soprattutto nel gestire Questi 3-4 giocatori Andiamo in pubblicità Subito dopo La seconda parte Di zona mistanese In compagnia di Raffaele Sergio E dei tanti messaggi Che continuano ad arrivare Al nostro sito internet Da casa La problematica L'emergenza in difesa Le soluzioni Le scelte tattiche Di Menichini Che sembra orientato A sì cambiare Atteggiamento tattico E a coniare A svezzare Un nuovo atteggiamento Un nuovo spartito Un nuovo vestito Rispetto a quelli Che pure è approvato In queste 11 partite Da quando è ritornato Sulla torda della nave Perché Al piol di Vercelli Sembra intenzionato A giocare Con il trequartista Alle spalle delle due punte Con il vertice alto Il rombo Che dir si voglia Insomma La geometria La lasciamo Tra i banchi di scuola Corrado ci scrive Buonasera Non capisco perché Pestrin Non trovi posto In questa squadra Il mister Riferendosi a te Raffaele Non pensa che Menichini Si stia scoprendo troppo Sembra il caso Di fare ancora esperimenti Io sostituirei Moro con Pestrin Lasciando Ogera al suo posto Con Zito e Gatto Ai lati Che ne pensa Il mister di Tui E esterno di centrocampo A parte quest'ultima considerazione Mi pare di aver interpretato Corrado che dice 4-4-2 Stiamo giocando bene Manca Moro Metti Pestrin Al suo posto E lasci tutto inalterato Ronaldo Non si fida La gente di Sarenno Forse per la Per la La condizione atletica Ma Ronaldo Secondo me Quel ruolo Lo fa benissimo Quindi Importante Allora Il problema Partiamo da un presupposto Che il giocatore sta bene È che da quando è entrato Ronaldo Comunque Alla squadra Gira con altra velocità Questo secondo me È importante E fondamentale Quindi Beh non è andata proprio così Da quando è rientrato Io ho visto alcune partite Almeno Ma forse prima Prima dell'infortunio Credo che abbia fatto Secondo me La differenza Per quanto riguarda Le scelte Di mettere uno L'altro Secondo me Menichini Che conosce bene La situazione Quindi stare di A dire Pestrin Deve giocare al posto Sarebbe la cosa più logica Ma se Menichini Che bene o male C'ha 30 anni di calcio Menichini lo ha estromesso Intanto Dalla Dalla Gara con Latina Per problematiche E poi implicitamente Ha confermato Anche in sala stampa Da Dopo Latina Che non è stato Neppure convocato Non è andato in ritiro Il capitano È stato reintegrato Si sta allenando regolarmente Sconterà questo Battibecco Chiamiamolo così Con Menichini Ma io credo Che questo tipo di Guerra Non conviene a nessuno Io credo Che ognuno Deve fare un passo indietro Cercare di ritrovare L'umiltà giusta Perché andare allo scontro Non serve a nessuno In questo momento Bisogna fare 5 finali Cercare di Di ottenere il massimo Da questi risultati Ti riferisci ai 5 scontri diretti Perché ne mancano 7 alla fine Sì Alla fine O 5 O 7 partite Sono 7 finali Quindi secondo me Secondo me Ritorno a quello Che ho detto prima Secondo me Tutti Ma dico tutti Dai giocatori Dovrebbero fare Una chiacchiera in meno E una corsa in più Io penso che in questo momento Non convenga a nessuno In trasferta che non in casa E io sono andato a spulciare Un po' le statistiche Sai che la Provercelli è la squadra Che ha perso più di tutte In trasferta Cioè in trasferta Alpiola in casa Però la Serenitana è anche quella Che ha vinto meno di tutte In trasferta Vediamo il servizio Difficile ma non impossibile Improbabile ad analizzare numeri e statistiche Plausibile se si guarda l'altra faccia della medaglia In ogni caso C'è l'obbligo di provarci Ad ogni modo La missione della Serenitana a Vercelli Non è affatto impossibile I Granata sono reduci dal confortante successo interno con il Latina Recuperano Bernardino in difesa Anche se devono fare i conti con la defezione di Moro a centrocampo Ed il probabile nuovo cambio di modulo Di contro quest'anno Coda e compagni non sono mai riusciti a centrare due vittorie di fila Per la legge dei grandi numeri Però il banco potrebbe saltare Ed il trend essere finalmente invertito E dal Silvio Piola Sponda Vercelli Non è poi così difficile battere bandiere a Corsara Non a caso la gloriosa Pro Sette scudetti all'attivo nella sua storia E la squadra che ha perso più partite di tutti davanti al proprio pubblico Per ben sette volte infatti La formazione di Foscarini ha lasciato l'intera posta in palio All'avversario di turno E' anche vero che i Leoni hanno pareggiato pochissimo tra le Muramiche Soltanto in appena tre circostanze Per raccogliere sette successi interni fino ad oggi Una squadra imprevedibile insomma E per certi aspetti anche indecifrabile Inguardabile se si prende come esempio il secondo tempo della gara di domenica scorsa al Sinigaglia di Como Oppure cinica e spietata se si pensa proprio al match d'andata con la Salernitana In cui fu capace di spugnare la Rechi Grazie ad una doppietta di mustacchio Inframezzata dal momentaneo ed illusorio pareggio di Donna Rumma Ma se i bianchi sono la squadra più battuta di tutte tra le Muramiche La Salernitana è anche quella che ha vinto di meno in trasferta insieme al Modena Fatta eccezione per l'unico esploat ottenuto fino ad oggi in terra romagnola contro il Cesena Infatti i Granata non hanno mai più fatto bottino pieno lontano da casa Non solo, il club di Lotito e Mezzaroma è quello che ha pareggiato più di tutti in trasferta Ben nove segni X all'attivo per l'ippocampo A voler dare retta ai numeri insomma la partita di sabato prossimo è aperta a qualsiasi risultato Molto dipenderà dalle motivazioni e ancora di più dalla condizione fisica delle squadre Testa e gambe insomma Sotto questo aspetto le premesse sono confortanti per la truppa di Menichini Un po' meno per l'undici di Foscarini Che comunque viene da quattro risultati utili di fila E in perfetta linea con gli obiettivi stagionali Non inganni infatti la squadra vista all'opera a Como Foscarini ha dovuto e deve fare i conti con pareti e defezioni soprattutto in difesa La squadra è stata stregliata a dovere dall'ambiente e difesa a spada tratta dal suo presidente Insomma, quella di sabato contro la Saranitana è una partita molto delicata La posta in pali altissime e le due squadre avranno gli stessi obiettivi In Granata probabilmente qualcuno in più Non solo perché sono ancora attardati in classifica Ma anche per riscattare la sconfitta partita nel giro d'andata Che al momento favorirebbe la Provercelli negli scontri diretti In un'ipotetica e non improbabile classifica avulsa Eccoci qua, di nuovo in studio, Raffaele Sergio, chi avrà più motivazioni? La Provercelli in classifica è proprio lì lì Se finisce il campionato si salva direttamente ma è ad un passo dal baratro La Saranitana è nel baratro Ma io penso che è una partita delicatissima Penso che è una partita che si carica da sola Quindi credo che tutte e due le squadre sono lì Ci sono due allenatori comunque esperti della categoria e degli ambienti Quindi io credo che sia una partita molto delicata Bisogna prepararla al meglio Evitando secondo me tutte queste piccole polemiche Raffaele ancora per te Nico ti scrive Scusate ma secondo voi Pollace può essere veramente più scarso di Ceccarelli, Franco, Rossi eccetera Io una chance gliela darei a Crotone Fece male così come i restanti dieci in campo al suo fianco Non sono d'accordo con me Si concentrano sugli esterni Insomma è questa la lacuna Secondo me è un giocatore secondo me non pronto Non pronto almeno per quest'anno Ma secondo me non ha le qualità per fare questa categoria Del resto è anche vero È vero che a Pollace è stata data soltanto una chance con il Crotone E poi è messo in naftalina Torrente a un certo punto provò ad arrabbattare E poi alla Spezia in Coppa Italia disse insomma gli ho dato le occasioni e in allenamento non le ha avute Però se è vero come è vero che due allenatori nessuno dei due lo vede Dall'esterno Raffaele Sergio che è stato un terzino Se non lo vede forse qualche problema forse attualmente non è pronto Ritorniamo al discorso di prima Purtroppo se uno ha le qualità ce l'ha Come all'inizio Coda andava malissimo Aveva fatto zero gol e tutti lo criticavano e ho detto per me le qualità ci sono E ci sono Su Pollace mi dico secondo me non ha le qualità per questa categoria Poi se Gesù Cristo è morto di freddo io non lo so Allora Golz ci scrive Dissento in modo totale con chi parla ancora di Pestrin Sabato ennesimo gesto di scarsa professionalità Quando senza problemi si è fumato Vabbè questo non lascia il tempo che trova Davanti ai tifosi e ai fotografi Poi in campo è fermo via da Salerno Insomma questo naturalmente sono cose assolutamente sul piano personale Io ho abilitato Fin quando si parla in maniera civile noi abilitiamo Quando andiamo oltre sono costretto a bloccare Invece ancora per Raffaele Sergio Ti chiedono due domande sempre con te Lei dicava come Coda e probabilmente lo conosce meglio di noi Secondo lei si sta esprimendo al massimo Il ragazzo ha più volte detto di essere penalizzato Dalla scarsa condizione fisica e del mancato ritiro Ciononostante ha realizzato 13 gol con 7 giornate ancora a disposizione E' lecito attendersi ancora di meglio l'anno prossimo Con un ritiro fatto in gruppo? Seconda domanda Lei ha vissuto a stretto contatto con l'ambiente udinese Che ricordi ne hai? Secondo lei un modello improntato sui giovani Sull'autofinanziamento tramite acquisti ad 1 A eccessioni a 10 E' fattibile anche a Salerno? Ci vorrebbero tre trasmissioni Allora prima domanda per quanto riguarda Coda Secondo me ancora ha ampi margini di miglioramento Perché secondo me ha... Cioè non è ancora al top secondo te? Secondo me sta abbastanza bene Secondo me l'anno prossimo potrebbe essere il suo campionato definitivo Di consacrazione in B Di consacrazione Perché questo ragazzo forse complice un po' Tante situazioni Ha girato troppo Non ha mai trovato continuità di... C'è bisogno anche di ramificarsi Secondo me sta facendo meno Con le qualità che ha Secondo me potrebbe stare anche in Serie A Il mio pensiero Poi per quanto riguarda l'Udinese È un modello secondo me all'avanguardia in tutto e per tutto Quindi all'avanguardia per quanto riguarda le strutture sportive Perché adesso ha realizzato lo stadio Ma vicino allo stadio ha un centro con 4 campi di allenamento Quindi questo ti fa capire che l'organizzazione Il modo di vedere il calcio E queste cose qui Ha osservatori in giro per il mondo Che comunque si aggirano per il mondo E non a caso ogni anno Riescono a trovare giocatori di grande qualità E soprattutto hanno una caratteristica Nel senso che per fare questa progettualità Secondo me bisogna avere la pazienza Nel senso che se arriva un giocatore a Salerno E dopo una partita E a Cerbo E non è pronto Bisogna avere la pazienza E di saperlo aspettare L'Udinese ha questa capacità Nel senso che io mi ricordo che Quando stavo a Udine C'avevamo un giocatore Che era Gargo Non so se ve l'ho ricordato Era un eretto Del Gana L'Udinese ha avuto L'attenuto un anno La longimiranza di aspettare Di farlo allenare con noi E ha avuto la pazienza Di saperlo aspettare L'anno dopo è diventato Verso fine campionale È diventato titolare E l'anno dopo è diventato Un titolo resissimo Se non si sposa A questo tipo di progettualità Secondo me È una questione di cultura Bisogna secondo me Inserirla E Salerno Può farla non bene Benissimo Se si va verso Questa direzione Allora Prima di chiudere Raffaele Sergio Ricordiamo È stato anche esterno Della Lazio Non con Lotito Cragnotti e Caleri Cragnotti e Caleri Raffaele La Lazio Lotito Si è sempre vantato Di un'organizzazione Perché tu parlavi Di organizzazione È vero Qui Nel nostro studio È stato presente Anche il responsabile Il settore giovanile Della Salernità Il settore giovanile Sta andando malissimo Però si è trincerato Dicendo Adesso noi avevamo Questa società Aveva altre priorità Dalla D E la portata in B Adesso dateci Il tempo di costruire Per il momento Non potevamo concentrarci Sui giovani Secondo te Questa tanto decantata Organizzazione Di Serie A La Salernitana Ce l'ha E Lotito L'ha trasferita Dalla Lazio Ma il problema Lotito Secondo me Ha salvato la Lazio In un periodo Secondo me Ha fatto Secondo me Anche un ottimo lavoro Il problema È che non si sa Relazionare con la gente Il problema di fondo Penso che sia Un pochino questo Almeno a Roma Dicono questo Quindi Non a caso La gente Sta disertando lo stadio Per questo aspetto qua Penso che Sotto l'aspetto Manageriale Di società Secondo me Ha fatto un grandissimo lavoro Non ci dobbiamo dire La Lazio era fallita Sostanzialmente Quindi Eh ma parliamo di Salernitana Di Salernitana Io penso che Non conosco le persone Non conosco le situazioni Quindi dare un giudizio Su questo È naturale che Il settore giovanile Bisogna avere pazienza E bisogna capire sempre poi Chi gestisce il settore giovanile Come viene gestito E se sia una linea unica Il problema è un altro Il problema è che Un settore giovanile Dovrebbe avere un responsabile E bisogna seguire La linea del responsabile È normale che Se ci sono dieci responsabili Secondo me Non si va da nessuna parte Fatticali in un pollaio Non fanno Almeno Io ho sempre pensato questo Ho tanti amici responsabili Di settori giovanili importanti E portano avanti Solo una linea Quindi Credo che Il settore giovanile Debba lavorare diversamente Rispetto agli altri Il problema di fondo Secondo me È questo qua Gli allenatori Devono essere più Maestri Istruttori Che allenatori Quindi cambia completamente Per quanto riguarda il settore giovanile Per quanto riguarda il settore giovanile Quindi Secondo me Bisogna proprio Avere capacità E professionisti Al posto giusto Grazie Raffaele Sergio Siamo in conclusione Ultras ci scrive Mi scrive Eugenio la butto lì Spesso sulla vostra rete Sento gli spot Di Travel Before Per viaggi anche aerei Dai per Salerno Secondo te si potrebbe organizzare Un volo charter da Ponte Cagnano Per giornalisti e tifosi In occasione della penultima a Cagliari Credo proprio di sì Magari insomma ci faremo Autori Gireremo questa Questa iniziativa Ma credo che sia una cosa Assolutamente Fattibile Augurandoci Tutti Che possa essere Una trasferta Foriera Di punti Importanti In chiave Salvezza Quota salvezza Raffaele si abbassa E' assestata sui 48 Secondo te? Secondo me è quella Perché comunque sia Con i tre punti a disposizione Ci stanno 21 punti a disposizione Quindi credo che Più o meno è quella Come quota salvezza Quindi Quello che conta In questo momento Più che guardare Quota salvezza Bisogna preparare bene Le partite Ed evitare un pochino Tutte queste polemiche Perché secondo me queste cose Non fanno bene A Bercelli L'importante è non perdere Non perdere è positivo Perché comunque sia Dai continuità Dai sicurezza I ragazzi comunque Prendono fiducia E guardare Ho detto Una chiacchiera in meno Una corsa in più E cercare anche il punto E può essere determinante Alla fine del campionato Ultimissima Mi dicono che devo chiudere Però volevo Allora Molti sost... Ah Giovanni per noi Buonasera Molti tifosi sostengono Che il Vicenza sia in crescita E che presto uscirà Della zona play-out Ebbene allora devo pensare Che la Serenitana È condannata comunque A giocare i play-out In quanto la salvezza diretta Significa superare Tre squadre in classifica Considerando che Latina, Ascoli e Provercelli Hanno calendari più facili Aggiungendo anche il Vicenza In ripresa Restano solo Modena, Lanciano E Provercelli Da poter superare A questo punto Pareggiare a Vercelli Significherà Dire addio alla salvezza diretta Perché quattro punti di differenza Sono troppi Quest'ultimo è molto forte Con attaccanti come Luppi Granoccia e Belinghiere In fondo lo titolo Punta ai play-out Così da fare un altro Grande incasso Di fronte a 30.000 spettatori Non so se questa ipotesi Dei 30.000 Con una partita Che poi ti vai a giocare Possa essere Ambita dalla proprietà Rispetto ad una salvezza diretta Non penso Parliamo di altri tipi Di cifre Ah bravo La salvezza diretta Comunque comporta Secondo me Introiti completamente diversi In questo momento Secondo me Secondo me bisogna guardare Qui è stato fatto Già un Un tema finale Secondo me Bisogna guardare A preparare bene La partita di sabato Che è la cosa più importante Dodger ti aveva chiesto Per Sergio Ma oggi è il trequartista Ma credo che tu abbia risposto Non è un po' rischioso A questo punto Non sarebbe più indicato Zito Magari schierato sulla trequartista Avanzata a sinistra Con licenza di accentrarsi Ha anche un bel tiro No Secondo me Zito è una mezzala Mezzala è un terzino sinistro Secondo me Sono d'accordo con Menichini Che oggi Può fare Secondo me Secondo me Quel tipo di ruolo Può dare E molte volte Il centrocampo Si può appiattire E diventare a quattro Quindi credo che Secondo me È una scelta Almeno tatticamente Per le caratteristiche Dei giocatori Secondo me È molto molto lineare Grazie Raffaele Sergio Ospite frequente Gradito Dei nostri studi Grazie ai tanti tifosi Che ci hanno seguito Da casa E hanno interagito con noi Gli internauti Attraverso il nostro sito internet L'appuntamento Con Zona Missa News Ritorno domani sera Puntuale alle 20.30 Su TV Oggi Salerno Solito Classico Tradizionale Ciao In collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito TVOggiSalerno.it E clicca su TV Oggi On Demand